Buongiorno a tutti, qui io farò un piccolo manuale dell'autosufficienza. Praticamente se si può possedere una piccola voliera o un piccolo box, logicamente in campagna con un po' di terreno, si possono levare due o tre galline per avere due o tre uova ad uso familiare. Io qui le ho allestite mettendo anche le loro ceste per poter fare le uova. Ho riparato, lì c'è la cesta con l'uovo, bisogna mettergli abbeveratori, le mangiatoie. E' un piccolo giardino fuori da poter mangiare l'erba. In quest'altro box, purtroppo le immagini non vengono molto bene perché oggi è abbastanza nuvoloso, io ci tengo dei pulcini e delle piccole quaglie. Non so se si riescono a vedere bene, eccole qua, se prese da vicino ho praticamente sette quaglie e una quindicina di pulcini. C'è anche un'occhetta. Di vedere bene l'occhetta. Sì, non scappate. Anche qui, logicamente, è da tenere abbeveratori, mangiatoie, che purtroppo l'occhetta fa un macello o anche delle specie un po' più rare, tipo l'aracauna. E non riesco a riprendere l'Australorp. Non appena i pulcini saranno un po' più grandi, verranno trasferiti in questa voliera esterna dove potranno ogni tanto uscire e mangiare un po' di erba.